cari amiche cari amici non ho resistito devo fare un mi scappa la diretta anche oggi 20 secondi il tempo della sigla e poi vi do un aggiornamento un aggiornamento sulle ultime cose che sono successe con la banca a fra pochissimo eccoci qui cari amiche cari amici benvenuti e benvenuti a questo mi scappa la diretta del 30 dicembre 2015 probabilmente l'ultimo mi scappa la diretta dell'anno bene io mi trovo in questo momento in francia nella città di toulon che si trova in costa azzurra vicino al mare vi faccio vedere ecco sono anche qui in compagnia di giovanni eccolo qua giovanni saluta ecco giovanni è il primo genito di angela la mia compagna lo conosco da da quando aveva praticamente cinque anni circa credo giusto no un po di più forse 99 anni 9 anni e insomma è per me è veramente come un figlio ecco siamo qua insieme c'è anche l'una che però è di là ma lei l'avete già vista in qualche altro mi scappa la diretta comunque cari amici questo mi scappa la diretta deve durare anche poco perché non ho molto traffico perché sapete qui all'estero insomma solamente un giga al giorno è già mezzo me lo sono sparato per tutte le cose che ho fatto oggi ma ci tenevo a darvi questo aggiornamento dal vivo ecco non mi è bastato pubblicare le lettere sul blog probabilmente qualcuno di voi ha già visto le lettere sul blog ci tenevo veramente a condividere con voi questa grande gioia allora come qualcuno di voi ricorderà io ho ricevuto in data 23 dicembre del 2015 quindi pochi giorni fa anzi scusate l'ho ricevuto il 24 dicembre mi è stata spedita il 23 proprio in una data veramente perfetta no per arrivare in un giorno in cui magari secondo probabilmente ma magari sono io che penso male sono veramente un cattivone e insomma l'idea forse era quella di mettermi un po' di paura no di intimorirmi un pochino io non mi sono affatto non mi sono affatto fatto intimorire ho risposto immediatamente lo stesso giorno il 24 dicembre a quest'avvocato che mi intimava di pagare tutto il dovuto entro 15 giorni dalla data di ricevimento di questa di questa lettera bene io ho risposto dicendo praticamente che davo io alla banca 15 giorni per pagare a me un anticipo di quello che mi è dovuto da parte della banca e poi ho intimato all'avvocato di rispondermi entro sette giorni quindi 24 non si conta 25 26 27 28 29 30 31 quindi sarebbe stato domani la scadenza dei sette giorni invece lui mi ha scritto in effetti il 28 cioè ieri l'altro io ero in viaggio non ho visto la pec l'ho vista stamattina ma lui devo dire onestamente mi ha scritto il 28 cioè praticamente con ben due giorni d'anticipo tre giorni anzi tre giorni d'anticipo rispetto al termine che gli avevo dato bene andiamo a vedere che cosa mi ha scritto questo signore ecco perché devo dire sebbene nella sua nella sua prima lettera era stato era stato un po come si può dire a me diciamo a me non aveva intimorito però sicuramente c'è il rischio che potesse intimorirmi ecco diciamo che nella lettera che mi ha scritto invece ha voluto dimostrarmi naturalmente a modo suo da avvocato addirittura minacciando una querela ma è ovvio che non lo farà poi se vuole farlo è liberissimo di farlo naturalmente praticamente addirittura lui mi ha scritto di essere lui intimorito da quello che io ho scritto ma io che cos'è che gli avevo scritto magari qualcuno di voi non se lo ricorda ve lo vado a dire allora io gli avevo scritto praticamente praticamente visto che lui mi intimava di pagare entro 15 giorni a causa dell'inadempimento bene io gli avevo scritto praticamente guarda che ti informo che probabilmente tu non lo sai ma c'è un carteggio penale tra me e la banca quindi attenzione a ficcarti ci dentro probabilmente non ti conviene e quindi rispondimi entro sette giorni su quali siano le tue intenzioni su questa cosa ma da parte mia ovviamente non c'era nessuna minaccia io semplicemente se lui mi avesse confermato come hanno fatto tutti i suoi predecessori che era tutto a posto che tutte le mie istanze erano infondate che io dovevo pagare basta allora a quel punto io avrei aggiunto anche il suo nome fra le persone con richiesta di indagini da parte mia invece lui ha preso le distanze quindi da parte mia nessuna minaccia ecco comunque diciamo che lui invece mi ha scritto una lettera dove mi dice per quanto riguarda naturalmente la parte tra me e la banca mi dice in relazione alla sua lettera trasmessami a mezzo pec in data 24 dicembre ultimo scorso il riscontro alla mia lettera del 17 nel riporto l'integrale contenuto alla mia assistita do bank cioè mi sta dicendo questa lettera che lei mi ha mandato io la girerò al mio cliente ok bene quale procuratore del titolare del credito unicredit contrariamente a quanto dalle affermato non è intervenuta alcuna cessione del credito vabbè questa è una cosa che io non capisco perché forse non sono un avvocato per me vuol dire se tu che sei una ditta diversa da quella con cui ho il debito mi scrivi dicendo che ti devo dare dei soldi intimando di pagare beh per me c'è stata una cessione di credito però io non sono un esperto probabilmente ha ragione lui ma questo punto non è essenziale poi dice non sono in grado di replicare puntualmente alle sue gravi affermazioni non conoscendo i fatti e non conoscendo i fatti e le denunce richiede inchieste penali a suo dire collegati con la posizione creditorio oggetto della suddetta mia lettera eccetera eccetera a cui le ha fatto riferimento alta proposito a tal proposito ritengo che riceverà idonea replica da parte di do bank spa quale procuratore di unicredit o direttamente da unicredit spa eventualmente anche attraverso professionisti informati sui fatti cioè lui sta dicendo io non saccio niente quindi io mi dispiace su questi punti non ti posso rispondere me ne lavo le mani ti risponderà do bank direttamente oppure unicredit o qualche professionista informato sui fatti sicuramente non io mi sta scrivendo l'avvocato perfetto mi riservo invece di valutare ogni azione nei suoi confronti interessando anche la procura della repubblica competente in relazione a quella che io leggo come vere e proprie intimidazioni rivolte alla mia persona nello svolgimento di attività professionale lei dimentica che non sono una sua controparte bensì un avvocato che nulla a che vedere in termini di coinvolgimento e responsabilità con le vicende contrattuali in essere tra lei e unicredit quindi mi sta dicendo io adesso vedo perché lei qua mi sta minacciando mi sta intimorendo quindi forse la querelerò per intimidazione va bene e io gli ho risposto io ho risposto ovviamente io per carità non è che lo volevo intimidire per fargliela pagare per il fatto che mi ha scritto la lettera il 24 di dicembre assolutamente no io semplicemente volevo chiarire come stavano le cose punto e non avevo nessuna intenzione intenzione di intimidirlo volevo semplicemente sapere quali fossero le sue intenzioni visto che sono state così chiaramente esplicitate ovviamente io gli ho risposto in questo modo gentile signor quello che è perché a questo punto io tutelo la sua prova e si non divulgherò il nome di quest'avvocato perché non ho nessun interesse ad avere nient'altro a che fare con lui non immagina quanto la sua lettera qui allegata del 28 dicembre ultimo scorso mi abbia fatto piacere per quanto riguarda la parte relativa ai trascorsi con unicredit e denti collegati la sua risposta mi soddisfa completamente ero certo infatti che unicredit spa nel fornirle tutti i dati relativi alla presunta posizione creditoria si fosse dimenticata di fornire tutto il resto che riguarda ormai ben 22 mesi di scambi epistolari fino ad oggi purtroppo inutili confido nel fatto che la sua gentile intercessione nei loro confronti faccia sorgere desideri di chiarezza ormai insperati e quindi qua gli sto dicendo mi fa piacere che lei praticamente prenda le distanze mi dice che non sapeva un cazzo di quello che io le ho scritto e quindi adesso questo è chiaro non c'è nessun problema quindi lei adesso manderà tutto tutta la lettera al suo cliente e saranno loro a rispondermi come lei dice perfetto non potevo essere più soddisfatto di così andiamo adesso alla parte che lo riguarda personalmente per quanto riguarda invece le mie affermazioni in merito ad un suo possibile coinvolgimento personale è ovvio che lei è libero di valutare di operare come riterrà opportuno ci mancherebbe altro ma mi permetta di spiegare che finora tutti i soggetti che si sono avvicendati al signor cortelazzi uno di quelli che io ho denunciato hanno messo per iscritto che confermavano integralmente le affermazioni fra parentesi false del cortelazzi stesso quindi io sono stato obbligato a denunciare no scusate a comunicare i loro nomi in procura nel suo caso invece lei ha chiaramente ed inequivocabilmente preso le distanze da tutte le attività pregresse da parte di unicredit quindi dal canto mio non ho nessun interesse a disturbarla oltre spero che ora sia più chiaro il motivo della mia posizione di attesa nei suoi confronti e che lei accetti le mie scuse per il fatto che io abbia solo potuto ipotizzare che lei decidesse di comportarsi come chi l'ha preceduta ecco cioè se per io voglio dire ho messo le mani avanti se per caso tu ti fossi comportato in modo criminale come tutti quelli che ti hanno preceduto allora avrei fatto anche il tuo nome siccome tu non l'hai fatto allora a questo punto io tranquillo tranquillo il tuo nome me lo dimentico la cosa finisce qui visto che tu mi hai anche dichiarato che ti lavi le mani che giri la pratica alla banca e mi risponderanno loro magari con altri professionisti informati dei fatti praticamente tu stai mollando la presa perfetto era esattamente quello che desideravo quindi obiettivo raggiunto al 100 per cento e sono veramente molto contento di questo bene cari amici questo era quello che volevo dirvi quindi sono veramente molto molto soddisfatto di come sono andate le cose vedo che c'è un nuovo commento a ecco vabbè questo qui è il solito il solito troll che dice che lui è pronto a festeggiare quando la banca mi fotterà la casa la banca non mi fotterà la casa caro mandarino caro che ti firmi mandarino coioncino ecco la banca non mi fotterà la casa assolutamente stai tranquillo sono io che avrò il giusto io non fotterò niente io avrò il giusto cioè mi restituiranno il cento per cento degli interessi più una somma che il giudice riterrà congrua per quanto riguarda i danni da me subiti tutto questo succederà nient'altro a questo punto adesso ti blocco e prima comunico e quindi comunicherò anche ecco mi devo mi devo mi devo ancora a fare la login per poter per poter bloccare questo simpaticone va bene va bene ecco qua ecco qua adesso lo blocchiamo subito così cari amici vi comunico anche il suo ip nel caso voleste voleste fare qualche ricerca su questo simpaticone login eccoci qua allora andiamo andiamo la bloccare andiamo la bloccare ma prima però vi devo dire l'ip blacklist allora l'ip è 149 copiamolo va facciamo un bel copia ok allora l'ip cari amici è questo qui è no 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 mannaggia non sono riuscito a copiarlo allora andiamo andiamo a copiare l'ip ecco 149 comunque 202 eccolo qui control v eccolo questo è l'ip buon divertimento cari amici adesso lo blocchiamo blocca 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 salva perfetto perfetto ok in cucina c'è qualcosa che bolle mi segnalano dalla regia va bene cari amici allora a questo punto vi saluto auguro a tutti voi una una felice serata non vi auguro un buon 2016 perché come ho detto già nel mio discorso di fine anno che vi invito a vedere se non l'avete ancora visto un buon 2016 ce lo dobbiamo costruire da soli è inutile che ce lo auguriamo dobbiamo fare in modo che ci sia un buon 2016 con le nostre azioni dirette e personali un abbraccio a tutti voi e grazie e grazie per l'attenzione ciao a tutti scappa 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 la diretta con salvo mandara scappa scappa scapposta scappa scappa scapposta much rega cappa alt cart